musica 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 ahahah che asfiga, però mi son preso male il gioco non parte, è vecchio ma non parte si invece parte ti faccio partire io lo masterizzo vedi che non succede ma perchè devi masterizzarlo perchè io sono in reddita masterizzato no, no Vuoi vedere quanti giochi per Xbox e tutto il resto sono masterizzati? Ma perché? Perché sì. No, io non rientro in quel livello. Se no cassa di nuovo tutto. Non adesso almeno. Di qua cosa c'è? Non c'era cosa degli arcobalini. Eh, l'altro è da quell'altra parte. Oh cazzo, quello vuol dire che di lì piove. Eh? Vuol dire che piove dall'altra parte. Ma perché? Ma che sì. C'è la luce e un tuono in realtà. Ma cosa dici? Io dico che cosa. Scriva che cazzo stai dicendo? Io dico un no. Cazzo? Oh no. Oh che figata la panna! Oh no. Ho capito che livello è. Un altro di quei livelli con il cappello alato. Che figata! Ah io ci giocare tutto il giorno solo per la canzoncina. Ma la canzone è quella di quando diventi invincibile? Non so. Trova l'ador. Lo so, è figa. Non so che mi vuole. Non ci fa neanche salire su quei cosi. Giorgio Arcobaldini. Dove sono i tappeti? Un altro? Sì, almeno ricomincio da capo. Ho guardato un po' come è la zona. Sì. Oh, un buco. Oh. Vaffanculo. Vabbè ce lo faccio. Dove cazzo ti sei infilato? Nella nuvola. Odio questi livelli. Io giuro che li ammazzerò tutti. Questi livelli mi fanno veramente un cagare. Impazzire. Sì, sì. No, mi fanno cagare. Non sono tutti. Immagina se si blocca dentro una nuvola. Mamma mia. Vedi perché non li sopporto. E se n'è andata. Ma stifo questi livelli. Oh no. Non c'entrare più. Sì, infatti non tanto non c'entra. Oh, lo sai che qua c'è un cannone segreto? C'è un cannone. Sì, quando prendi tutti e 120 le stelle. E fa partire in cima del castello. Perché ci sono in totale 120 stelle. Ah, sì. Puoi usare quel cannone per finire sul tetto del castello. Nel tetto del castello trovi Yoshi. E chi se ne frega di Yoshi? Che ti dà l'ultima stella. E poi ti uccide. No, non è vero. Ah, meno male. Avevi rovinato già la mia infanzia a prescindere che non c'è mai giunta. Però in compenso c'è una hack che avevo visto su internet che faceva spessare di Yoshi che ti parlava poi non ti dava la stella e anzi ti prosciugava tutta la vita e poi ti uccideva veramente. Ok. Voglio giocarci anch'io con quell'hack. Ah, ma tanto ci giocheremo. Ma voglio tutte le hack. Perché tutte le hack? Le proveremo tutte in una volta. Davvero? Sì, perché no? C'è tipo Mario Gigante nel castello piccolino. Ma come cazzo fai a giocare? A spessare. Cioè c'è un piede dentro una stanza gigante. No, no, semplicemente c'è Mario Gigante nel castello enorme. Cioè, il piccolino. Ragazzi, c'è scritto... Velocizziamo sta parte, cazzo. Tu sei il più grasso di tutti. E non voglio chiederti il perché. Ma sai come? No, vabbè, lasciamo stare. Siamo tornati. Eventualmente. Siamo arrivati di nuovo a sto pezzo. Cadi, cadi, cadi. Ma io non cadrò mai. Che pezzo di merda. Vedi? Faccio pure glitchare il gioco, ma io non cadrò mai. Perché io ci ho messo mezz'ora di glitch e poi sono cambiato? Perché tu sei tu. Perché tu non sei capace neanche a camminare, figurati di stare... Ma è... Su un tappeto sdraiato, sì. Ma cosa di sdraiato? Il 18 non ci sta in piedi. Crollerebbe lo stesso, eh? Ma che pezzo di merda. Che pezzo di merda. Ciccione. Cicciccione. Ti spacco il joystick in testa. No, 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 no. Sì. Mamma mia. No, 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 no. No! Sì. Che botta di culo. Sì. No, 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 no. Crollano. Sì. No, no, no. Eccola qua. La nave. La stella. Il vento. Ma cazzo. E vai. Perché non è caduto? Perché? Eh? Eh? Oh. Sì. The Rambo. Crossing the Rambo. Rambo. Ma perché Rambo? Cosa facciamo adesso? Vai al boss. Non si può. Dobbiamo arrivare a 70 stelle. Ma scusa, ma ti ha aperto la porta e non c'è il boss. Dobbiamo arrivare a 70 stelle per arrivare al boss. Ma fanculo, va. Stupido. The big house in the sky. Stupido browser. E vanno nella parola e già casete. Browser. Internet Explorer. Mi basta. Ho un pelo nell'occhio. Stiamo velocizzando perché la gente crede che io sia un idiota. E ha ragione. C'ho le palle lunghissime. Ho le palle lunghe. Ma quanto sai. Io ci ho provato a camminare molto spesso. Perché poi canti e poi stai così invece? Perché è più silenzioso va a me. No, non è vero. Me la compri un'arpa. Perché? Perché mi piace suonare. Ma fanculo. Dai. Perché è grosso come te? Sì. È immobile anche. Esatto, non ti sentiresti solo. Da lì, papapah, papapah. Non è così che fa l'arpa. Ma sì, lo so. Mi farebbe accompagnare. No, 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 non di nuovo. Non sei capace. Cazzo, l'ho fatto io, dai. Sì, hai ragione. Ho un pelo nell'occhio. Stiamo velocizzando perché... Stiamo scendendo i coglioni. Vuoi velocizzare ancora un po'? Sto arrivando, sto arrivando. Piano, piano. Ok, ho ammazzato quello lì perché mi stavo in culo. Vai, vai. E uno. Adesso c'è l'altro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E ci siamo. E due. Boh, è rimasto così sospeso in mano. Eccola lì. Eccola lì, la grande casa nel castello. C'è l'ho... Esattamente. Ti devo mettere il sottotitolo per quello che hai detto. Se vuoi. Tanto non si capisce un cazzo lo stesso. No, pensaci bene. Pensaci bene cosa vuol dire. Cosa? È il mio linguaggio, però lo capirei. Ma che cazzo stai dicendo? Minchia c'è un linguaggio o io cazzo? Che linguaggio? È italiano poi c'è il mio linguaggio. No, il tuo linguaggio viene fuori solo quando mangi. Anche? Che bastardo che sei io. Non sono stato colpito da quelle robe, ma va bene. Ma qua c'è una stella, perché? Non ho idea. Io sto seguendo ancora il tappeto. Oh, l'uomo fulmine. Sicuramente mi porterà da qualche parte. L'uomo fulmine? No, il tappeto. Ah, fulmine. Che poi forse c'è una stella lì. O che è l'uomo fulmine? No, l'uomo fulmine può anche fare una sega. Ma perché arriviamo sempre lì? Aaaaaaah! Eh? Arriviamo sempre lì alla fine. Dove? Cioè dico l'uomo fulmine non può fare una pompa, l'uomo fulmine non può fare una sega. Sì, sì. È molto, molto... È erotico. Sì. È molto erotico. L'unico difetto è che è l'uomo fulmine, quindi... ...quare queste cose... Aaaaaah! Succede questo, purtroppo. Ma che se facesse tipo la montagna russa che poi andava a sapere... Oh no 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 no... Boh. Eh, fai. Eh fai! Ma che cazzo... Gira, gira! Eh, gira, 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 gira! Sto salendo, sto salendo. Hai urtato il microfono. Sì, lo so. Purtroppo il microfono è qua in mezzo alle palle. Eccola qua. Con le mie palle. E sto... E sto per... E di qua? Dimmi che c'è una seconda stella. No, è una beast. Spai, mira. Sì Vedi avere due tavoli Vedi avere due tavoli a cosa ti porti Ma che cazzo dici Cazzo significa Siamo un passo in avanti Verso il terzo boss Che è sempre Bowser Voglio un Lensworn